Per quanto riguarda il centro-destra, per quanto ci riguarda, la riserva c'è, è quella dei 24,7 ettari, è quella dove insiste la biodiversità, quindi deve essere sicuramente tutelata. Non riusciamo a capire perché prima si fosse allargata in maniera così esponenziale a coprire tutta la collina, i 1.100 ettari, dove c'è stato un impoverimento delle attività economiche, soprattutto del mondo agricolo e addirittura ci sono state abbandono dei terreni. Vorrei ricordare che lì passa una strada che era stata alle 16, ci sono tre distributori, uno è il più grande della provincia di Teramo, ci sono addirittura molte abitazioni, molti depositi, ci sono addirittura ben tre discariche. Noi riteniamo che invece di aver fatto un'azione per la salvaguarda di quel territorio, per lo sviluppo di quel territorio, non è affatto vero che ci sarà la cementificazione perché per quanto riguarda la regione c'è il vincolo paesaggistico, ci sono i vincoli della provincia, il comune di Roseto che è quello che leggifera a livello urbanistico, credo che faccia bene a fare subito una variante per poter bloccare ulteriormente, ma per il resto riteniamo di aver fatto un servizio al territorio e soprattutto di aver ripristinato la legalità. Il borsacchio nasceva con 35 ettari, poi 10 nel 2012 sono stati sottratti e mi risulta che il comune di Roseto abbia autorizzato palazzi e residence alberghieri e quindi abbiamo ripristinato la legalità, 24 ettari, 700, dove sicuramente c'è la tutela del fratino e della tartaruga.